adesso c'è il fischio del direttore di gara che va a ravvisare un'irregolarità probabilmente il pallone è stato rimesso in gioco non in maniera impeccabile adesso Giuseppe Farina la conclusione il palo gli nega la gioia del gol attenzione alla conclusione sporcata Marco Sugamiele riesce poi in due tempi ancora la sera che rimane lì ci pensa Erasmo Farina Vincenzo Agatone con Mandina buona la contropiede per il Real di Luvio per Mandina c'è il gol cambia il parziale al quindicesimo minuto di gioco Mandina la botta il pallone che però viene riconquistato alla Capaci contropiede per la formazione ospite attenzione a Raveduto alle prese con Mandina c'è il gol contropiede vincente fa tutto da solo Raveduto conquista il pallone si invola resista la carica di Mandina prima di incrociare con il destro partita a tratti maschi ma non ci sono stati assolutamente interventi scomposti fino a questo momento da sottolineare quindi la sportività e la professionalità dei giocatori che si alternano in campo attenzione adesso all'Atletico Capaci che riesce a trovare il varco vincente con il numero 17 prestigiacomo abile Atletico 2 Real 1 attenzione Dario Cancitano vorrebbero il calcio di rigore i giocatori del Real proteste da parte del pubblico una azione che sicuramente merita di essere rivista attenzione al ciccio di Luvio pallone che filtra per il gol di Erasmo Farina ed è 2 a 2 Agatone e Dario Cancitano sul pallone quattro giocatori dell'Atletico Capaci a formare una barriera c'è il gol Real in vantaggio cambia nuovamente il parziale al 25esimo allo scadere salvo eventuale recupero concesso dal direttore di gara poi il gol da parte del numero 5 Andrea Giambona Sì, positiva si è stato troppo buono però abbiamo fatto la nostra onesta partita noi non avevamo obiettivi più da raggiungere dato che non potevamo raggiungere i playoff e siamo usciti dai playout quindi abbiamo fatto la nostra onesta partita senza magari la giusta cattiveria la giusta tensione che c'è quando c'è un obiettivo a portata di mano loro serviva un punto per mantenere distante lo zodiaco Alcami hanno fatto tutto per prenderlo alla fine potevamo anche vincere il risultato è andato in milico fino alla fine alla fine ha vinto oggi lo sport le due squadre li sono affrontate a viso aperto con la giusta voglia Adesso c'è l'ultimo atto contro il San Gregorio Papa già matematicamente il retrocesso è un'altra squadra che non avrà grandi stimoli ultimo passo di questo campionato prima di guardare al futuro con grande ambizione Sì, le basi sono quelle che abbiamo avuto quest'anno cercheremo di prendere dei ragazzi che comunque saranno pronti non dico da subito ma nel giro di pochi mesi ci saranno spero dei ritorni che ne stiamo lavorando ma purtroppo questi campionati così sappiamo che puoi organizzarti quanto vuoi ma quando il lavoro chiama magari dopo un mese un ragazzo va via e quindi sei costretto a riscrivere di nuovo i nuovi obiettivi noi abbiamo intenzione di lavorare il prossimo anno con il settore giovanile con i giovani cercare di avvicinare a questo sport anche i più giovani perché è la base non si può andare avanti senza avere una base di settore giovanile cercheremo in tutti i modi con il presidente Saia di avviare una bella situazione anche a Marsala tra Marsala e Mazzara penso che iscriveremo una squadra in Serie D per fare esperienza a questi ragazzi e vedremo un po' come si evolve la situazione il fatto sta che non molliamo sicuro quest'anno è andata come è andata ma per il futuro io sono molto fiducioso e molto contento anche perché la società ha delle basi solide e in questo sport da tanti anni il presidente Saia non ha intenzione di mollare siamo qua a parlare nell'ultima partita dal prossimo anno sperando che il prossimo anno gli obiettivi saranno diversi